salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazze entriamo ad allenare i dorsali e spalle ovviamente come potete vedere cominciamo con una lat machine una lat machine però come la facciamo questa volta questa lat machine faremo ragazzi voglio rischiare tutto 50 kg faremo quattro serie per cinque ripetizioni proveremo ragazzi come potete vedere 50 kg sono 25 alato non so come entra a finire che già 48 la volta scorsa erano mortali noi non ci accontentiamo ovviamente vogliamo il massimo del massimo andiamoci a pesare come prima cosa e poi proviamo il 50 kg 58.90 kg grasso corporeo 13 per cento rispetto all'ultima volta siamo calati di 800 grammi abbiamo perso il 0.4 per cento di massa grassa ciao 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 secondo esercizio abbiamo l'art machine triangolo sono soddisfatti da 50 kg anche se ancora non perfetti vabbè ci sta è un peso elevato per i borsali dai ci sta 44 kg alla lato macchina in triangolo è un quadro aumentato eravamo 42 guardiamo 4 serie per 8-10 ripetizioni vediamo come va dai terzo esercizio abbiamo un rematore singolo con manubrio faremo 20 kg 3 serie per 10 ripetizioni comunque ragazzi ho messo 20 kg in vento voglio arrivare un po ragazzi puli basso abbiamo 4 serie per 8 ripetizioni 48 kg ragazzi abbiamo fatto anche il pull e durissimo non posso assicurare adesso non andremo a fare il solito stacco ma andremo a fare distensioni su panca per il un paro ovviamente ora vi faccio vedere questo esercizio vi posso assicurare che questo esercizio si sente anche più nello stacco perché lo stacco 90 kg comincia a diventare leggero questo esercizio invece con soli 10 kg e la morte ve lo assicuro perché eseguito correttamente il lombare praticamente vi salta all'aria ragazzi non potete capire io sento tutto ho tirato ve lo posso assicurare perché è un esercizio molto funzionale ovviamente adesso comincieremo con le spalle comincieremo con militari pressi faremo tre serie per cinque con i nostri 40 kg spalle distrutte con la militari pressi adesso andiamo a fare alzati frontale spalle distrutte con la militari pressi adesso andiamo a fare alzati frontale alzati frontale faremo tre serie per 10 ripetizioni con 12 kg abbraccio ovviamente lo faremo singolo spalle distrutte con la militari pressi adesso andiamo a fare alzati frontale ovviamente adesso tocca ai laterali faremo sempre 3 serie per 10 ripetizioni però questa volta con 8 kg non dico 12 perché già scusate 10 kg aumentiamo la volta scorsa erano 8 ora sono 10 kg ragazzi siamo arrivati all'ultimo esercizio faremo le spalle posteriori 3 serie 10 ripetizioni 30 kg cavo alto con la corda faremo siamo pronti partiamo ovviamente dopo un bel esercizio non può mancare il check fisico oggi sono davvero soddisfatto allenamento ben fatto esercizi ben eseguiti soddisfatto 100% oggi check fisico e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao